pagelle di juventus stoccarda non so a quanti di voi hanno visto stamattina il mio good morning juventus non voglio parlarmi addosso però ho fatto un video che si intitolava perché segniamo poco magari se avete voglia ve lo guardate domani un altro giorno quando avete pazienza guardatelo perché quello che io ho detto in quel video prima che si accadesse questa partita puntualmente successo noi abbiamo grosse difficoltà a fare gol e ovviamente questo si creava enormi problemi per in io ho speso due anni del mio sul mio canale a dire che per in per me non era inferiore a cesni anzi io lo ritenevo superiore a cesni per un motivo molto semplice perché in porta a parare erano bravissimi tutti e due ma bravissimi tutti e due sia cesni uoice che saluto che per in però cesni con i piedi era inguardabile buttava via il pallone per in oltre essere bravo tra i pali a parare è bravissimo con i piedi poi se mi fai delle partite come questa sera caro mattia io non posso chiederti 9 ti do 9 e non 10 perché il gol non è colpa tua sia chiaro non è colpa tua però avendo perso stride un po un 10 a un portiere dopo una partita persa quindi fa conto che questo è un 9 camuffato da 10 ma 9 è tutto tuo tutto tuo tutto tuo anzi se non abbiamo perso più di una zero è solo ed esclusivamente merito tuo 9 savona io ho detto con la lazio l'ho detto anche nell'altra partita in cui aveva giocato dove c'era andata bene che secondo me troppo presto mettere titolari questi ragazzi in partite così importanti se tu me lo metti titolare in juventus lecce me lo metti titolare in juventus como mi può anche andare bene ma se tu mi vai a fare la champions league giochi con l'ipsia col psv con la stoccarda con lille con l'aston villa col siti no così giusto vi ricordo la squadra che la juve non è di ceneretola e non ai brush dove prendono quattro gol non ai young boys non ai stella rossa e slavia praga queste squadrette qui giusto per via sono tutte forti le squadre che incontro la juve appunto se tu fai giocare un ragazzino così che magari paga l'emozione l'inesperienza poi dopo rischi ha perso palloni ha sbagliato un sacco d'appoggi la fascia destra non è funzionata e molte delle colpe erano sue perché se era spaventato era terrorizzato stava schiacciato e teneva a basso consenso che faceva una fatica tremenda si prende il pallone indietro tant'è che gli ha dovuto togliere entrambi e consenso aveva giocato bene non aveva giocato male 44 siamo sempre lì questa sera il miglior in campo è per in perché dopo la parata le partite della parata che ha fatto ma kalulu continua in per terito a prendersi 7 kalulu è un signor giocatore guardate secondo me kalulu è più forte di bremer guardate cosa vi dico bremer fortissimo però bremer con la palla al piede non è eccezionale è forte come difensore questo qui è forte come difensore forte con la palla al piede questo veramente è un regalo caduto dal cielo anzi caduto da milanello 7 a kalulu bravo bravo pierre cabal 6 ha fatto la sua onesta partita qualche piccola sbavatura però è un giocatore che mi dà affidamento se penso che avevamo sandro abbiamo avuto sandro per otto stagioni mamma mia grazie grazie signore che c'è che c'è che c'è cabala adesso non più sandro quindi fai giocare cambiaso a destra devo motta e fai che giocare cavallo a sinistra lascia stare savona 6 a cabale fagioli molti l'hanno criticato nell'intervallo sono andato a fare una carellata per sentire molti l'hanno criticato io dico una cosa fagioli l'abbiamo visto davanti alla difesa l'abbiamo visto smistare i palloni davanti l'abbiamo visto difendere in area l'abbiamo visto allargarsi sulla fascia sinistra sulla fascia che cosa volete di più da un giocatore cioè è chiaro che se tu predichi nel deserto parli da solo e quindi io non posso dargli più di 6 perché effettivamente non ha fatto giocata di livello ma la colpa non è sua la colpa dei suoi compagni che non l'hanno appoggiato 6 mckennie premetto che non è colpa sua perché mckennie ha fatto una grande stagione l'anno scorso e ha sempre fatto ottime partite fino adesso quest'anno ma se meno metti trequartista dietro lavic caro tiago motta stasera proprio avevi voglia di inventarti e di fatti quando fai troppi troppi esperimenti ma non parlo di tiago motta in generale quando uno fa troppi esperimenti miseramente falliscono mi spiace questo ma questa sera ti devo dare quattro di più non ti posso dare perché sei stato praticamente inesistente anzi inutile più che inesistente quattro turam quando è arrivato erano tutti contenti io dove io adoravo suo padre quello dell'inter è fortissimo sarà forte anche l'altro io per adesso vedo soltanto uno che corre corre in maniera sconclusionata mi ricorda un po il primo rabbio ve lo ricordate primo rabbio che correva alla cazzo di cane l'avevo chiamato cavallo pazzo correva alla cazzo di cane poi si scordava il pallone ecco abbiamo sostituito rabbio con uno che è uguale a lui a me rabbio non ha mai fatto impazzire speriamo che turam migliori però molto dinamismo molto fisico tecnica scarsina e molta confusione 5 5 perché sono buono stasera con sensato sei poverino cioè ha fatto di tutto e di più occorre lotta prende botte cerca di saltare l'uomo però ve l'ho detto aveva una spalla avete visto poi la corsia cambiaso che si aiutavano che differenza che c'è stata abissale per cui sei a con sensato e adesso veniamo a colui che veste abusivamente la numero 10 della juventus che la nilis è un buon giocatore nessuno lo mette in discussione a tecnica fantasia ma non ha fisico non ha fisico e soprattutto è un giocatore che deve sentire la porta deve essere vicino alla porta giocando alto a sinistra non venendo mai dentro il campo ma facendo un po quello che faceva chiesa ma chiesa è un ala non è una seconda punta a differenza di idis tutto quello che lui fa viene sprecato perché deve saltare se tu sei vicino all'area salti un uomo poi c'è il portiere davanti giusto se tu sei largo a sinistra devi saltare un uomo poi magari devi saltare un altro rischi che devi saltare un terzo e quindi è inevitabile che se sanno quel tuo giochino è destra sinistra destra sinistra sinistra destra ti fermano fisicamente non è possente e quindi basta dargli una spallata e lo fermi per cui idis sarà un problema perché il giocatore è forte tecnicamente ma va collocato attenzione sto parlando di posizione in campo questa sera messo la così come nella lazio come con la lazio messo la così questa sera si prende l'ennesima insufficienza questa sera molto grave 4 a idis non mi è piaciuto per niente poi se è colpa sua colpa di tiago motta lo direte voi io so che mi non mi è piaciuto bravi c'è o ve l'avevo promesso nelle delle analisi che questa sera avrai dato un voto particolarissimo a law which direte che voto dalla max forse di qualcuno di voi magari due o tre se lo stanno chiedendo questa sera io a law which ed è meritato il volto che gli do ve lo dico con il cuore in mano è meritato a law which do sv involontariamente quella lazio è come se gliel'avessi dato perché me lo sono scordato ma perché non gli sono arrivati i palloni quindi avrei dovuto dire sv me lo sono scordato ma gli avrei dato sei no questa sera gli do sv senza voto perché non gli è arrivato neanche un pallone giocabile allora ditemi voi come fa un centravanti a segnare o a provare di segnare se non gli arriva neanche un pallone e quando dico neanche un pallone ripeto neanche un pallone zero palloni sono arrivati per cui avlaovic sv e quello che l'ha sostituito agis ve lo dico già adesso ve lo dico già adesso prende lo stesso voto sv perché posizionato lì si intercambiava un po con ilgis ma tutte le volte che era lì non gli arrivavano i palloni se uno si mette davanti non arrivano palloni quindi tiago motta che sia il caso magari di dividere i tuoi schemi perché mi sa che col tuo schema arrivano pochi di palloni e le punte quindi law which sv cambiaso io l'ho detto mille volte cambiaso è sempre uno dei migliori è stato uno dei migliori della unità dell'anno scorso è sempre uno dei migliori nazionale è sempre stato uno dei migliori quest'anno ma perché lo tieni giù ma perché lo tieni giù in Champions League ma tienilo giù con il Lecce tenilo giù con il Como lo vuoi far rifiatare ma lo tieni giù con lo Stoccarda che facevi tre punti eri già non dico matematicamente i playoff ma quasi cioè io non lo capisco queste cose io non le capisco queste cose cambiaso è un signor giocatore sa ricoprire più ruoli e li ricopre tutti bene sei e mezzo sei e mezzo cambiaso Locatelli ha fatto il suo io l'ho sempre detto Locatelli è uno da cui non puoi pretendere molto ma se ti accontenti che faccia il suo che vada a recuperare palloni che li smisti in maniera anche semplice che ci tenerebbe bisogno questa sera perché erano intesati gli spazi ha fatto il suo sei Locatelli meritato e gli faccio anche un applauso perché ha giocato molto meglio lui di Thuram molto meglio lui di McKennie Weha io dall'anno scorso che lo dico che mi piace non lo so molti uentini non lo considerano forse perché il figlio di George che ha giocato nel Milano forse perché era talmente forte il papà guardate che sto ragazzo qua se gli date fiducia è forte e poi è il secondo anno che gioca nella Juve non si deve ambientare lui conosce già l'ambiente e quando entra da sempre un cambio di marcia è veloce salta l'uomo mette palloni in mezzo questo è uno che merita Tiago Motta se vedi che Consensau fa fatica se vedi che Nico Gonzalez fa fatica se vedi che Rildiz fa fatica sposti Nico a sinistra perché ci può giocare Nico a sinistra e metti a destra Weha ok e fai la spuola una volta Consensau una volta Weha è un giocatore che secondo me può dare una mano alle punte perché mette palloni uno dei pochi che mette palloni mentre Consensau è molto bravo ma gioca un po' più da solo sette Weha sette Aziz ve l'ho detto no SV ve l'ho detto prima allora lui poverino intanto che mancava pochi minuti di SV e adesso veniamo al nostro allenatore siccome qualcuno non tanti fortunatamente perché alcuni ascoltano i miei video e vi ringrazio quelli che non ascoltano i miei video mi hanno tacciato di anti allegriano e pro motta non mi vergogno di dirlo a me Allegri non mi piaceva specialmente nel secondo mandato non vedevo l'ora che andasse via e sono contento che abbiamo Tiago Motta che stasera che darò un bruttissimo voto a Tiago Motta gli darò un bruttissimo voto vi dico che sono contento di avere Tiago Motta perché io ho lasciato lavorare tre anni allegri e quindi non posso non lasciare lavorare almeno un anno Tiago Motta lo so già che non vinciamo niente neanche noi neanche quest'anno lo so già non è che sono un illuso come alcuni juventini che mi hanno detto che sono troppo critico troppo negativo vedremo se vincevamo qualcosa vi dirò avete ragione voi avevo torto io a me interessa che lui riesca a far cambiare direzione a questa squadra questa squadra ha difficoltà a proporre palloni in avanti deve capire che anche lui ha commesso degli errori Danilo in campo non si può vedere l'ho dato il voto a Danilo l'ho dato il voto a Danilo no non l'ho dato ah Danilo 2 è un ex giocatore e mi stavo dimenticando chiedo scusa Danilo è un ex giocatore Danilo non è mai stato un giocatore all'altezza della maglia che veste lo abbiamo addirittura fatto capitano Danilo non deve più mettere il piede in campo lo dicevo di Sandro non mi sono sbagliato lo dico di Danilo è imbarazzante è sempre in ritardo sbaglia i tempi non esce mai col pallone nel piede bene sbaglia i passaggi perché non hai fatto giocare gatti che sta giocando benissimo boh è come se tu avevi chiellini ai tempi di allegri e metti in campo rugani è uguale tu avevi chiellini che era un difensore fortissimo e metti in campo rugani questo è quello che sta facendo Tiago Motta questi sono grandi errori di Tiago Motta Tiago Motta deve fare un bagno d'umiltà deve fare un bagno d'umiltà che non è che tutte le tue idee sono geniali spai fai cazzate anche tu come le faceva Salvi come le faceva Pirlo come le faceva Lippi e come le faceva Trappattoni ok e come le faceva Conte però non esagerare a far cazzate perché se mi metti in campo contemporaneamente Illis fuori ruolo Danilo che è imbarazzante Savona ragazzino e poi mi metti meccanico trequartista cioè capisci che la squadra fa un po' fatica perché una volta giocano in un posto giocano in un altro cioè devono simulare troppi schemi troppe idee nuove e poi dopo vanno in confusione e poi la partita che ne esce è una schifezza come quella di questa sera e siccome questa sera tu sei stato molto responsabile del non gioco della Juve perché abbiamo fatto fare un figurone allo stoccard adesso qualcuno dirà avete avevo detto che lo stoccard era forte lo stoccard è forte né più né meno del PSV né più né meno dell'Ipsia ma siamo stati noi che siamo stati inesistenti questa sera perché abbiamo giocato male perché i giocatori erano messi male e c'erano in campo dei giocatori che non dovevano essere messi in campo caro Tevomotta questa sera ti prendi il primo quattro da quando alleneri Juventus quattro strameritato perché se ti davo cinque era un regalo di Natale anticipato buonanotte a tutti buonanotte a tutti